Allora, ho tante cose da dire. Innanzitutto la partita è ancora in corso, lo faccio adesso questo video perché purtroppo non è internet quindi probabilmente ci metterò molto tempo per caricare questo video. Ma comunque attualmente Juventus-Barcellona sta per finire con il risultato di 2-0, massimo 2-1 proprio se facciamo proprio un arrembaggio ma siamo in 10 uomini quindi ne dubito altamente. Allora, innanzitutto il primo tempo, non voglio neanche parlare degli avversari perché il primo gol è avvenuto anche abbastanza in modo fortuito, parliamoci chiaro una deviazione ed è rimasta là. Quindi alla fine non è che stiamo parlando di un grandissimo gol, ha tirato come veniva e ha segnato. Però più che altro è stato l'atteggiamento del secondo tempo che mi ha fatto totalmente nervosire. Il primo tempo ci stava ancora, nel senso che abbiamo avuto anche due opportunità per segnare, abbiamo segnato ma ci è stato annullato il gol, abbiamo avuto l'opportunità appunto magari di fare un gioco un po' più propositivo. Ma il Barcellona è stato ben schierato, hanno giocato tutti bene, a parte per esempio il numero 4 che è poi stato sostituito da Busquets per esempio. Il Barcellona, io devo dire che ha 9-10 fenomeni e un alieno, ovvero Messi. Totale rispetto per questa squadra che sì, sta passando un momento difficile ma ha sempre la forza di rialzarsi ogni volta da questi momenti difficili. E non come la Juventus che appunto non riesce a scappare da questo momento buio senza Cristiano Ronaldo, con quattro pareggi in campionato, anzi no tre. È una vittoria a Tavorino e ringraziamo Tavorino che ha segnato questi tre gol, che ci permette di stare quinti. Ottimo risultato, devo dire la verità. Adesso paghiamo le scelte della società, ovvero mandare Luca Pellegrini e quindi non avere nessun terzino sinistro, mentre Alessandro è ancora nella stanza dello spirito del tempo probabilmente. Oppure nell'intubatrice dove stava Vegeta, posso fare tantissime referenze a Dragon Ball e tra poco prendiamo pure il terzo da come sto vedendo. Parliamoci che ragazzi, allora, oggi la formazione è stata schierata con i migliori, quelli abbiamo e quelli mettiamo. No, abbiamo preso il terzo, no, meno male, perché Anzufati ha deciso di fare l'altruista. Vogliamo parlare, di che vogliamo parlare? Il migliore in campo della Juventus, Alvaro Morata. Alvaro Morata e un po' tutta la difesa tranne De Miral, perché Bonucci ha fatto sempre interventi puliti, mentre invece Danilo ha fattosi interventi puliti, uno fondamentale su Messi, però quando impostava, impostava malissimo. E quindi diciamo che su questo non può essere lodevole, ha fatto una partita molto sufficiente, però diciamo che sull'impostazione non è, diciamo, il giocatore che la Juve ha bisogno. Però da destino destro io lo metterei volentieri. No, vediamo Di Bala che fa, niente, prende praticamente in pieno McKennie, niente, non riusciamo manco a fare un gol giusto per sognare, per crederci negli ultimi minuti, ma lo prenderemo il terzo probabilmente, perché questi attaccano sempre, non sono come noi. E prima di dilagare la mia totale rabbia contro i due peggiori in campo, e tra l'altro uno appena è entrato e è diventato subito il peggiori in campo, voglio dire che oggi si è vista la differenza tra quando hai una squadra con qualità e una squadra invece che non ha qualità. Guarda questo, madonna mia, sto Bernardeschi mi fa diventare razzista. Si vede la differenza tra una squadra di qualità e una squadra raffazzonata, una squadra che non ha nulla. Ad esempio il nostro centrocampo è nulla, ragazzi. Rabiot solamente fisico, non viene aiutato da fisico, non viene aiutato da nulla, non ha niente a che vedere con un centrocampista, cos'è l'essenza di un centrocampista. Benancur è una moviola, ci mette mezz'ora per girarsi, è ai piedi di tra virgolette buoni, tra virgolette voglio fare un complimento, comunque ha buone idee, sempre tra virgolette, sempre tra virgolette. McKennie è entrato, ha già fatto vedere che è tre volte Rabiot, nonostante sia molto minuto a livello fisico rispetto al francese. E adesso parliamo del peggiore in campo. Ma guarda Di Bala che punizione ha tirato sto mongoloide, è finito 2-0 comunque, si può spegnere anche qui il televisore. Si può passare ad uno dei peggiori in campo, anzi perché ce ne sono vari. Allora, Polo Di Bala. A me Di Bala fa incazzare perché innanzitutto ha un atteggiamento presuntuoso. Contro il crotone se non erro non ha fatto neanche un minuto e si è lamentato negli spogliatoi comparati, ci ha detto che devo giocare. Ha giocato contro la Sverona e ha fatto tremendamente schifo, fatto tremendamente schifo e oggi ha ripetuto la prestazione che ha fatto contro la Sverona. Come sempre Di Bala, quando c'è da giocare bene, gioca male. Una partita ha fatto bene, punto contro il Barcellona di tre anni fa, quando però tutta la squadra girava bene. E lì va bene fare il migliore in campo. Quando poi, dopo, si è stato il nulla del nulla. E a me fa incazzare anche il fatto che non corre, non lotta sui palloni, non fa un dribbling a solo il sinistro, non riesce a fare un cazzo. Perché un Conte è tipo, per esempio, Kuluseski, che sia a solo il destro, ma lui cerca in tutti i modi di portare la palla avanti. Di Bala si tiene la palla sulla fascia cercando la rimessa, cercando il calcio d'angolo. Il primo calcio d'angolo della partita l'abbiamo avuto al novantesimo, ragazzi. Ma ci rendiamo conto? Cioè, io veramente non ho parole. Pirlo, cosa devo dire su Pirlo, ragazzi? La società gli ha messo sta squadra, lui sta cercando di fare qualcosa. Neanche Zidane potrebbe fare qualcosa. Neanche il miglior allenatore del mondo, che non è manco stato creato, potrebbe fare qualcosa con questa squadra. Perché poi ci sono atteggiamenti di giocatori di merda. Perché non solo sono giocatori di merda, ma anche il loro atteggiamento. Di chi parliamo? De Miral. Allora, De Miral, quando per esempio gioca in Serie A contro la Sferona, contro per esempio il Crodone, fa delle buone partite. Poi gioca contro le squadre un po' più a livello della Juventus. E che fa? Si mette a palleggiare nel centrocampo del Barcellone e fa pure un fallaccio. Cioè, ma tu stai scherzando? Tu a meno cinque minuti dalla fine della partita? Che fai? Fai un fallaccio? Perché ti sei messo a palleggiare al centrocampo. Cioè, ma stiamo scherzando? De Miral che tra l'altro fa tutto di testa sua, perché io dubito che negli allenamenti faccia così. Dubito altamente. E chiaramente viene espulso. Doppia munizione, espulsione. E ti devi vergognare. E non devi giocare più. Non devi giocare più. Perché mo' che torno ad Elite ti fai sei mesi di panchina e capisci la cazzata che hai fatto oggi. Perché poi se abbiamo preso il rigore, eppure per colpa tua, perché quel cesso di Bernardeschi è stato scalato terzino-sinistro. E spero, addio, che domani venga resciso il suo contratto. Spero ovviamente, perché un giocatore così scarso, nella storia del Juventus non l'ho mai visto, entra e a posto magari di essere con la forza fresca che magari sulla fascia può aiutare, fa il fallo di rigore su Anzou Fadi. Ma tu ti devi vergognare, ti devi rinchiudere, ti devi. Ti devi rinchiudere. Eh, io veramente, non ho parole per Federico Bernardeschi, che poi è rentato dai cinque minuti. Sai fare un passaggio, una palla, non prendi un cazzo, vai più bella figura. Ma perché devi metterti a fare il difensore e a fare un fallo su Anzou Fadi? In area di rigore, tra l'altro. Io non ho parole. Quello che ha sbagliato Pirlo è stato mettere il centrocampo di Falegnami, perché non c'è stata una mezza impostazione al centrocampo, arrivava da Bonucci. Arrivava da quadrato. Eh, questo è. Mentre invece, mentre si metteva Artur, magari dal primo, oppure McKennie, che è già fatto un po' di più, e gli altri due, magari stiamo parlando di un'altra squadra, di un'altra partita. E senza parlare dell'assenza di Cristiano Ronaldo, che sarebbe stata tutta altra partita. Tutta altra partita. Perché oggi c'è mancata la finalizzazione, la precisione, nelle azioni. Ok? C'è mancato la cosa più importante, tirare a porta, che lo fa un uomo nella nostra squadra. Ovvero Cristiano Ronaldo. Io, quando ci sarà Cristiano Ronaldo, voglio che gente come Dybala si segga in panchine e non giochi. Non giochi. E manco il contratto li devi rinnovare. Anzi, glielo rinnovi di un anno, e poi lo vendi. Perché la più grande cazzata fu fatta, due anni fa, a non scambiare Dybala con Lukaku. Che a me Lukaku fa cagare. Ma di certo mette più passione di Dybala nel giocare a caccio. Perché io, da quel momento, Dybala non l'ho mai visto pulito. Infatti, l'ultima stagione di Allegri l'ha fatta di merda. Quella con Sarri ha fatto buono sui periodo post-lockdown. E ora sta a fa cagare. Sta facendo cagare. Ok? Ok. Chiesa. Chiesa Acerbo, ragazzi. Che mi dice oggi? Chiesa è stato il peggiore. Ragazzi, chiesa Acerbo. Veniva dalla Fiorentina. Che ha giocato al massimo l'Europa League. Non ha mai giocato una partita di Champions. E, sinceramente, ha giocato molto meglio di Bernardeschi. Io finisco qua per oggi. Perché ci sarebbe tanto da dire. E noi minuti sono anche limitati. Perché ci sarebbero anche degli insulti da fare. Perché io ammetto. Si può perdere con Barcellona. In Barcellona sono alieni. Sono alieni. Può capitare che magari esce la partita no. O che incontri alieni più forti di te. E appunto perdi 8-2 contro il Bayern. Però non accetto che i giocatori non buttino il sangue in campo. Non accetto che giocano in sufficienza. E meno della sufficienza. E che prendano esempio dei giovani del Barcellona che c'erano in campo. Come Pedri. Come lo stesso Ansufati. E così via. E concludo. Complimenti al Barcellona. Perché se ne può dire di tutti i colori su questa squadra. Che confusione aria. E così via. Ma le grandi partite le sa fare. Le grandi partite le sa giocare. E tralasciamo il 2-8 contro il Bayern Monaco. Che là nessuno li fermava il Bayern Monaco. E chiudokua.